Si svolgerà sul benissimo tracciato la pista del Corallo di Alghero a terza prova il campionato regionale karting AC Sport 2017. Prova fondamentale per il proseguo della Kermesse in quanto dopo le prime due prove nelle varie categorie il divario di punteggio è veramente esiguo e i punti in palio ad Alghero daranno un'impronta importante alle varie classifiche. Nella New Entry Level, 6-8 anni, l'algherese Caria comanda con 4 punti sul Cagliaritano Corpino, Manesi e Cogoni hanno bisogno di vittoria per inserirsi nelle parti alte della classifica. Nella 60 Cadetti, 8-12 anni, Serusi ha fatto sinora bottino pieno e ad Alghero potrebbe mettere una serie di ipoteca al titolo, ma le prestazioni di Bitti non sono certo da meno e la categoria con motori lame a sorteggio vi farà un duello entusiasmante. Basoli, Ledda e Prodi hanno dimostrato che comunque anche loro saranno nella partita. Nella 125 AC Junior, il favorito del pilota di casa dei Martis, anche se nell'ultima prova è Villanova Franca, a ramo ha dimostrato di essere in gran forma. Meloni e Fois potrebbero inserirsi per la vittoria, visto i tempi staccati in queste settimane di prova. Nella 125 AC Senior e Giuseppe Ferrigato a comandare con autorità. Battieri, Masala e Caria sono però sempre molto competitivi e non staranno certo a guardare. In questa categoria, che si prevede molto numerosa, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Nella 125 KZ2, la prestazione di Boi preoccupa il pilota di casa Rocchi. Saranno sicuramente la contesa Paba, Leone e Casiddu, che nei test di domenica scorso hanno filato le armi per aggiudicarsi la gara. Nella KZ2 di scaduta omologa a comandare è Calaresu. Appuntamento quindi già da sabato sulla pista del Corallo in regione Sassegada-Dalghero, con le prove libere dalle ore 9 e domenica dalle ore 10 per qualifiche, prefinali dalle 11.30 e finali dalle 14.30.